I partiti devono aprirsi ai cittadini e il monito lanciato dal sindaco di Sulmona Peppino Ranalli lo scorso martedì dagli schermi della nostra emittente stimolato a parlare del ruolo dei partiti alla luce della recente Leopolda 2015 di Matteo Renzi perché per il primo cittadino questi eventi devono servire a riavvicinare la gente alla politica. Il sindaco Ranalli ne ha approfittato per spronare la sezione locale del PD affinché si possa arrivare al raggiungimento di questo obiettivo. Colgo l'occasione anche per chiedere al mio segretario del partito Fabio Ranalli di accelerare sulla procedura di apertura del partito a tutti coloro che vogliono avvicinarsi di dialogo, di ascolto e di partecipazione alla città soprattutto perché anche per un sindaco avere un partito che fa proposte azione e segue la situazione significa rafforzare la propria azione amministrativa. Peppino Ranalli a prescindere dalle appartenenze partitiche ritiene importante il coinvolgimento dei cittadini ed in particolare dei giovani alle attività politiche. Io ritengo che le idee, le proposte che vanno a migliorare le azioni siano accettabili e siano auspicabili da qualunque parte e se provengono. Non creare un laboratorio dove si dice un'altra posulmone è possibile. Chiaro il riferimento all'evento della scorsa domenica organizzato al Cinema Pacifico dal consigliere comunale di Forza Italia Luigi La Civita in qualità di presidente dell'associazione intese Abruzzo. Per il primo cittadino se si ricopre un incarico politico non ci si può nascondere dietro un'associazione o un comitato come avvenuto per il punto nascita. Mi sembra che il consigliere sia vice coordinatore regionale di Forza Italia, sia coordinatore locale di Forza Italia quindi con la responsabilità politica di un partito. Io l'ho già denunciato nel momento in cui c'è stato il comitato per il punto nascita dove segretari di partiti con la maglia del movimento hanno fatto un'azione di occupazione dell'aula consigliare e non facendo un'azione politica identificandosi con i partiti di iscrizione e quindi non si può fare il presidente senza maglietta, poi si fanno i comunicati stampa come Forza Italia e poi si rivestono ruoli e cariche quindi bisogna fare chiarezza. Per il sindaco Ranalli insomma ci si trincera dietro associazioni o movimenti perché in vista di elezioni ci si accorge che i simboli dei partiti non tirano come dovrebbero preferendo allora la creazione di raggruppamenti civici. Mi piacerebbe che anche tutte quelle persone che hanno partecipato con delle proposte possano anche presentare all'amministrazione perché io da sindaco non ho mai escluso, anzi ho chiesto a chiunque sia dalla maggioranza che dalla minoranza avesse progetti sia sul programma di mandato che fuori il programma di mandato e di portarli, di prendere queste proposte e di portarle avanti per aiutare questa città.